Succede che l'attività amministrativa viene alla fine, viene in qualche modo smascherata, l'attività amministrativa di chi ci ha preceduto. L'avvio cioè della procedura di riequilibrio finanziario ha fatto sì che, come da previsione di legge, la ragioneria generale dello Stato abbia qui inviato un ispettore che ha svolto una accurata analisi e lo ha fatto con la competenza propria e tipica di un organo terzo, è evidenziato in maniera inequivoca la gestione finanziaria precedente che ci ha portato ad un'eredità finanziaria per l'appunto disastrosa e che ha imposto a questa amministrazione per salvare la baracca, la barca che stava affondando, ci ha imposto politiche senz'altro impegnative nei confronti della cittadinanza. Noi abbiamo sempre cercato di spiegare questo evidenziando come non c'erano alternative a dette politiche che però, lo ricordo, non sono solo di innalzamento della pressione fiscale ma sono anche di robusto taglio della spesa corrente di questo ente. E lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che Pescara senza una solidità finanziaria naturalmente non può pensare di proseguire nelle sue traiettorie di crescita. Siamo consapevoli che è un lavoro impegnativo ma non ci siamo sottratti alla responsabilità, non abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto, non abbiamo, come dire, volto la testa da un'altra parte ma abbiamo maneggiato con serietà questa situazione. Credo che ciò valga anche a rendere inequivoco in qualche modo di chi sono le responsabilità di una situazione così complessa e penso che le operazioni verità siano sempre necessarie. Il 31 dicembre sostanzialmente ci sarà la legge finanziaria e sapremo che incidenze essa avrà sui nostri bilanci. Noi contiamo di approvare anche il bilancio 2016 entro la fine dell'anno perché riteniamo che la programmazione sia indispensabile.